Appurato questo, volevo oggi ricordare una persona che forse lei non apprezzerà. Una persona che 35 anni fa mancava, a cui abbiamo voluto bene tutti e continuiamo a volere bene. A questa persona che 35 anni fa, l'11 giuno, mancò. E ha lasciato un ricordo dolce e struggente. E nessuno lo ha dimenticato. Bene, la ringrazio molto. Poi mi fate troppo commuovere ed emozionare. E' meglio che continuare. Grazie. 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 Grazie.